ma bella raga ciao a tutti ben ritrovati in questo nuovissimo video qua sul mio canale quest'oggi raga siamo qua tornati su fortnitez per mostrarvi e raga penso il bug della vita perchè con una cosa davvero semplice con una cacata pazzesca potremmo aumentare le vittorie quindi io in questo momento mi trovo nel secondo account ma tranquilli che non credo ci sia pericolo di ban io però nel dubbio raga metto le mani avanti prendete questo video a scopo informativo però ripeto secondo me non rischiate nessun ban poi vedrete perchè dato che è una cosa talmente stupida che la vedo alquanto improbabile che si possa rischiare il ban però nel dubbio io l'ho detto raga allora intanto vi faccio vedere che su questo profilo ho 0 vittorie in singolo 12 in duo e il resto tutto a 0 perchè in realtà raga queste vittorie non andranno ad aumentare ma andranno ad aumentare le vittorie su fortnite tracker sito famosissimo che penso la maggior parte di voi conosca per controllare le statistiche proprie o degli altri giocatori raga piccolo aggiornamento perchè in realtà le vittorie non ve le conta solo su fortnite tracker ma proprio su tutti i siti e applicazioni che svolgono la stessa funzione quindi dai è ancora meglio e quindi le vittorie che andranno ad aumentare saranno su questo sito appunto in questo momento ho 10 vittorie anzi facciamo una cosa andiamo ecco qua le statistiche della stagione 9 almeno è più pulita la schermata si capisce meglio nella stagione 9 ho fatto una vittoria ho giocato solamente in duo su questo profilo e quindi ok no? quindi raga per aumentare le vittorie semplicemente dobbiamo fare questa cacata pazzesca dobbiamo mettere scatto dell'orda che è la modalità a tempo limitato presente adesso e che vabbè non riempire ma penso no anzi mettete a non riempire perchè con riempi mi sa che non funziona quindi non riempire così starete da soli e andiamo easy molto semplice adesso aspettiamo che sia via la partita tanto raga nel dubbio codice creatore rack sono un bel like iscrizione campanelline se vuoi far 20 bombe questi sono i requisiti lol comunque raga siamo qua in partita siamo appunto da soli in questa modalità molto easy adesso aspettiamo che ecco è partita la partita molto semplicemente raga noi dobbiamo buttarci appena mi fa effettivamente ecco possiamo buttarci e abbandoniamo molto easy così raga abbiamo fatto una vittoria incredibile davvero facendo questa cacata pazzesca abbiamo vinto e adesso vi faccio vedere perchè se noi andiamo qua allora intanto dobbiamo aspettare un minuto e otto perchè chiaramente se noi aggiorniamo manualmente ancora non ce la conta quindi dobbiamo aspettare che sia il sito ad aggiornarsi quindi un minutino e poi andiamo a controllare se effettivamente la vittoria ce l'ha data allora mancano ancora 18 secondi nel mentre vi faccio vedere che qua appunto come vi ho detto non ha aumentato nulla siamo ancora a 0 singolo 12 duo e 0 0 quindi qua appunto non vi andrà a aumentare nulla però qua su questo sito raga tra 5 secondi attenzione 3 2 1 e tomo easy 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 una bella vittorina fatta in squad che vabbè per squad intende chiaramente quelle quelle math ovvio però raga avete visto che ce l'ha contata 0 kill top 3 top 6 tutto comunque raga avete visto che la vittoria ce l'ha data ora magari il dubbio non potrebbe dire sì vabbè ma magari avrei fatto tu dei manini non lo so quindi facciamone un altro va bene no problem raga quindi rieccoci qua in partita e nel frattempo vi ricordo bel like iscrizione campanellina codice che do le rax e la partita si avvia allora aspettiamo che il gioco ci faccia atterrare molto semplicemente tomo andiamo abbandoniamo mi raccomando raga ricordatevi di non mettere a non riempire perché se mettete il riempimento teoricamente non ve la dà la win quindi mi raccomando comunque qua possiamo già andarcene tanto non serve a niente qua adesso aspettiamo un minuto e 36 e poi vi faccio vedere che ci avrà dato la seconda win ah prima nel dubbio vi faccio vedere che qua ancora è tutto uguale cioè qua proprio raga non cambiano se volete aumentarle qua lì non ve l'aumenta ve l'aumenta solo qua tanto manca un minuto e 7 secondi aspettiamo oh raga ci siamo quasi 3 2 1 e tomo eccotela la seconda anche qua raga vedete non ho fatto kill cioè proprio io raga penso di esservi di avervi fatto vedere perché proprio non è una cacata avete visto che si è aggiornata la pagina chiaramente mi segna zero kill cioè quindi non è uno può dire eh sì magari l'hai fatto poi ne hai vinta poi sei ritornato qua no quello che ho fatto vedere è successo raga per cui nulla il trucco funziona è abbastanza carino se volete farmare delle win su fortnite tracker potete farlo comunque raga detto questo io vi saluto vi ringrazio per quanto like iscrizione campanellina codice creatore raxo nello shop se volete fare chiaramente 20 bombe questo è il codice giusto no per di scherzi raga dai ci ficchiamo alla prossima con un video live bella grazie a tutti